Presidente, è appena terminata l'Assemblea e avrà ancora 4 anni per lavorare, forse lei avrebbe preferito dedicarsi ad altro, ma l'impegno vuol dire che è stato mantenuto, ha lavorato bene e i soci delle cooperative hanno deciso di affidarle ancora 4 anni. Cosa ci sarà in questi prossimi 4 anni? Abbiamo certamente tanto da fare come cooperazione, l'abbiamo laggiato oggi anche come messaggio dell'Assemblea, lavorare perché sul territorio si possa sempre di più creare quelle opportunità di occupazione e di lavoro che tolgono anche quella illegalità che purtroppo continuamente continua a crescere sul nostro territorio proprio dovuto alla scarsità di lavoro e alla non generosità di molti modelli di impresa che anziché lavorare per il territorio cercano di sfruttare il territorio. Il nostro impegno e l'impegno dei prossimi 4 anni sarà anche sul percorso che stiamo portando avanti sull'alleanza, un percorso che naturalmente ci vede coinvolti con le altre organizzazioni di rappresentanza e su questo naturalmente dobbiamo essere protagonisti perché nell'ambito della cooperazione, conf cooperative e sul livello territoriale è quella che rappresenta più cooperative. E' anche vero che nella generosità che ha avuto sempre il nostro mondo il potere allargare agli altri per gli interessi dei propri soci è un obiettivo che ci dobbiamo porre e ci dobbiamo porre fortemente anche a livello foggiano. Ecco, in questo momento di particolare crisi, l'agricoltura è importante ma anche tutti gli altri settori, come vi state attrezzando appunto per affrontare questo momento particolare in questi giorni? Ma certamente i dati che sono venuti fuori, che ho questa mattina anche il Presidente della Camera di Commercio ha detto, c'è più un 2,7% di crescita di imprese nel mondo della cooperazione, più un 5,8% di occupazione. Sono già i segnali che in un modello di impresa si sta fortemente cercando di uscire fuori dalle difficoltà. E' anche vero che ci dobbiamo confrontare sempre di più con quelle che sono le situazioni nazionali, ma il nostro territorio ha tanto da fare su diversi settori. L'agroalimentare, il sociale, il sociosanitario, la stessa pesca, ma l'abitazione può dare molto. E su questo vogliamo diventare concreti con progetti che nell'utilizzare quelle che sono le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia per i prossimi anni, sia sui fondi europei che anche sui fondi nazionali, noi possiamo essere tra coloro che utilizzando bene queste risorse creano quelle opportunità di cui i giovani hanno bisogno. Senta, ultima battuta, la politica quest'oggi è stata molto presente. Cosa chiedere e come utilizzare, tra virgolette, la politica? Ma noi alla politica chiediamo pochissimo, chiediamo di essere ascoltati. Siamo convinti che possiamo aiutare loro a creare quegli obiettivi necessari per una crescita del territorio. Noi, ho detto questa mattina, non siamo quel mondo organizzativo o di rappresentanza che contesta, noi siamo quelli che portiamo proposte e a queste proposte vogliamo almeno avere delle risposte, capire se sono condivise o non condivise dalla politica, poterci confrontare. E questo è il nostro ruolo, lo facciamo in modo silenzioso, ma a noi interessa portare risultati che sono quelli che aspettano i nostri soci. Presidente, un augurio e un buon lavoro. Grazie a voi per la disponibilità che date sempre.